Nome Giacomo Pietro Cognome Scanzi Negra Età 58 anni 63 ieri Città Brescia Saleso Maggiore Professione Faccio l'imprenditore nel mondo delle materie plastiche Industriale nella moda Quando hai iniziato a correre? Anni 50 Nel lontano 1976 Il tuo obiettivo di quest'anno nella Porsche Carrera Capitalia? Beh, fare meglio dell'anno scorso, l'anno scorso ho fatto terzo Anche per me? Vincere la classifica over a 60 Una ricetta per risollevare l'Italia dalla crisi? Un vero cambiamento Detassare tutti gli straordinari premi di posizione La Porsche più bella di sempre? La 917 Sì, 917, anni 70 6.000 km di Monza Quella, quella Sì, proprio lei Se non corresti nella Porsche Carrera Capitalia dove vorresti correre? Nella Porsche Carrera Cap GT, ma sempre Porsche La cosa che ti piace di più della Porsche Carrera Capitalia è quella che ti piace meno? Mi piace molto il format, mi piace molto la gente, mi piace molto il marchio e quello che fanno funzionare Non mi piace niente, mi piace tutto Mi piace di più che è difficile da guidare e mi piace di meno che è difficile da guidare Il tuo idolo nelle corse? Il mio primo idolo Jim Clark e il mio ultimo idolo Nicky Lauda Gilles Villeneuve, l'aviettore Il desiderio ancora da realizzare nella vita? La felicità della mia famiglia Beh, io, l'ambito sportivo, dimostrare a me stesso che posso essere ancora competitivo Chi è il più bello tra i due? Lui Meno male Qua si vince facile Mare o montagna? Montagna Mare Carne o pesce? Carne Carne More o bionde? More More Circuito preferito? Mugello Fino adesso era Imola, da oggi Mugello La tua gara più bella e quella più brutta? Sono tutte belle, mi diverto Sì, l'ultima del Mugello Il tuo avversario più forte nella Porsche Carrera Capitalia? Tra i giovani sicuramente il più bravo Alessandro Balzana e Vito Postiglione E tra noi che facciamo un'altra classe Angelo Proietti e Alberto De Amici Non c'ero in quegli anni là, quest'anno sì, direi anch'io Proietti, De Amici, Scanzi, insomma se ne sono tanti Chi vince quest'anno la Porsche Carrera Capitalia? Credo Giraudi se lo merita Sicuramente non io Chi vince il Mondiale di Formula 1? Vettel se lo merita Vettel Stringetevi la mano Vai Giacomo Anzi vai piano Giacomo